Milan-Sassuolo termina con un 1-2 dove il Milan va a perdere contro un Sassuolo davvero guerriero o meglio battagliero, azardo a dire. Due infatti gol che il Sassuolo va a realizzare, due bellissimi nonché straordinari gol di fascino immenso che attestano e portano il Sassuolo ad una meravigliosa vittoria. Vittoria che però non arriva ovviamente da parte del Milan che fa un solo gol e basta. Un Milan giù di tono a mio potesto parere non riesce a conquistare la vittoria e perde clamorosamente. Eppure stava andando piuttosto bene il Milan nelle ultime partite secondo la mia opinione ma ecco che ieri 21 aprile 2021 arriva questo scivolone calcistico. A segnare l'unico gol per il Milan è stato Kalangorou al trentesimo minuto in gioco del primo tempo. A segnare invece due gol per il Sassuolo la coppia di gol quindi è stato il buon Giacomo Raspadori al settantaseesimo minuto in secondo tempo e sempre al secondo tempo precisamente all'ottantatresimo minuto di gioco. Per quanto riguarda il Sassuolo nel secondo tempo brilla di luce propria va a fare una partita meravigliosa straordinaria autenticamente bella da vedere e da osservare ma nel primo tempo non mi sembra che entri in partita. Per quanto riguarda invece il Milan il contrario il Milan nel primo tempo brilla nel secondo invece si lascia sopraffare dalla stanchezza dalla chiamiamola non voglia di farcela ed ecco che purtroppo perde in maniera clamorosa questa partita calcistica. Vi ringrazio in primis per la visione in secondis per l'ascolto di questo video di oggi iscrivetevi al canale narratore italiano commentate datemi le vostre opinioni ci tengono a averle. Un saluto caro al prossimo video buona giornata a voi.